Messalina, sposa di Claudio e figura controversa. Valeria Messalina, terza moglie dell'imperatore romano Claudio, è una figura storica piena di leggende e controversie. La sua reputazione di donna dissoluta e crudele è stata perpetuata nei secoli da fonti storiche spesso ostili e da una diffusa misoginia. Ma chi era veramente Messalina? E qual è la verità sulla sua vita e sul suo tragico destino? Nascita e famiglia. Messalina nacque intorno al 25 d.C., di stirpe aristocratica di stirpe claudiana, e fu nipote di Ottavia minore, sorella di Augusto. Si sa poco dei suoi primi anni di vita, ma si pensa che abbia avuto un'istruzione sofisticata, commisurata al suo status sociale. Matrimonio con Claudio. Nel 39 d.C., all'età di circa 14 anni, Messalina sposò lo zio materno, Claudio, da poco proclamato imperatore. Questo matrimonio, che avrebbe dovuto rafforzare la posizione di Claudio, inizialmente si è rivelato felice. Messalina diede all'imperatore due figli, Britannico e Ottavia. Influenza politica. Durante i primi anni del regno di Claudio, Messalina esercitò una notevole influenza politica. Sostenne l'ascesa al potere di alcuni favoriti come Narciso e Pallade, e lavorò per promuovere i suoi interessi e quelli della sua famiglia. Accusa di insubordinazione. Tuttavia, la reputazione di Messalina cominciò a essere offuscata dalle accuse di stravaganza e immoralità. Le fonti storiche, in particolare Svetonio e Tacito, la dipingono come una donna adultera e amorosa dedita alla promiscuità e alle relazioni segrete. Verità o propaganda. La veridicità di queste affermazioni è stata spesso messa in dubbio. La misoginia e l'ostilità politica nei confronti di Messalina potrebbero aver contribuito a esagerare i suoi vizi e a dipingerla come una figura mostruosa. Intrighi e morte. Nel 48 dici Messalina fu accusata di aver complottato contro Claudio per sposare il suo amante, Gaio Sirio. Messalina impedì ai suoi eredi di ricevere il premio Festinandi, ricompensa riservata ai discendenti di chi anticipava la pena di morte per suicidio, e fece destinare l'ambita proprietà del fiume Pincio al suo amante Sirio. Per sposarlo, escogitò una strategia. Una mattina, in lacrime, raccontò a suo marito che aveva sognato di diventare vedova. Allora Messalina propose al marito spaventato il divorzio. Claudio accettò, anche se sposare qualcun altro avrebbe portato un destino infelice al suo nuovo marito e avrebbe restituito il suo amato Claudio alla vedova. Mentre Claudio era ad Ostia, Messalina celebrò con fantasia le sue nozze con Sirio, o almeno la scena che la ritraeva visto che era già sposata. Messalina, infatti, non avrebbe mai abdicato al trono. Messalina avrebbe condotto una doppia vita, si prostituiva in un bordello fino all'alba sotto il nome d'arte lisisca. La sataviris necdum satiata era stanca ma non soddisfattia, ma la cosa più esasperante era che l'imperatore Claudio era certamente consapevole del comportamento di sua moglie e lo tollerava, forse perché era troppo vecchia per soddisfare i bisogni sessuali degli altri. D'altra parte, Juvenalis detestava anche i rapporti omosessuali, cioè i rapporti tra uomini adulti, perché era considerato normale abusare dei giovani. Gli storici greci Dio Cassio e Flavio Giuseppe, così come i romani Svetonio, Tacito e Seneca, dipingono un ritratto molto crudele della moglie di Claudio. Claudio tornò di corsa a Roma, dove Messalina si gettò ai suoi piedi e implorò perdono. Claudio ebbe anche lui avventure ma perché era uomo non contava. Temendo la ritorsione di Messalina, Narciso incitò l'imperatore a destituirla e, con il suo consenso, la fece assassinare dai pretoriani nell'estate del 48. Messalina aveva solo 23 anni, era ancora adolescente, e fu per secoli demonizzata come una donna intrigante, crudele e dissoluta. La sua vita sessuale era conosciuta in tutta Roma e aveva l'abitudine di circondarsi di uomini belli, ma le sue orge e le sue prestazioni sessuali nei bordelli furono pubblicizzate per giustificare il suo omicidio. La figura di Messalina rimase controversa per secoli. La sua reputazione di donna dissoluta ha messo in ombra il suo potenziale talento e il suo ruolo politico. È solo negli ultimi decenni che gli storici hanno cominciato a rivalutare la sua figura e a cercare di separare la leggenda dalla realtà. Messalina rimane una figura enigmatica e affascinante della storia romana. La sua vita e la sua tragica morte continuano a stimolare il dibattito e a ispirare opere letterarie, artistiche e cinematografiche.